All'andata trasportavano la droga, al rientro, gli incassi. Ad Amsterdam, l'organizzazione smantellata dalla polizia tra Olanda e Basso Salento, metteva a disposizione degli autisti campani pregevoli alloggi per riposarsi. Ci sono voluti due anni di indagini per individuare i pezzi da 90 del sodalizio e decifrare i codici segreti utilizzati per comunicare, poi poche ore per far scattare le manette ai polsi di 23 persone, sequestrare beni complessivi per 4 milioni di euro. In azione la squadra mobile di Lecce, a capo dell'organizzazione un 59enne salentino, tuttora ricercato in Olanda. Al momento la città di Amsterdam è passata al setaccio perché la droga proveniente dal Sud America lì veniva stoccata in decine di magazzini. Pensavano di fare business con la cocaina, erano molto attenti a passare inosservati, ma non sono sfuggiti a controlli, pedinamenti e intercettazioni della direzione investigativa antimafia. Nel corso delle indagini anche 5 arresti in fragranza trasportavano 25 chili di cocaina, 90 mila euro in contanti.